Quando voglio fottere qualcuno cerco di farlo incazzare. Perché se sei incazzato sei anche stupido, o almeno più stupido del solito, che probabilmente non è poco. Se sei incazzato non hai tempo per le risposte lunghe, non vuoi la complessità, vuoi il sangue. E capiamoci, hai ragione, la rabbia fa bene, serve per reagire alle ingiustizie e alle umiliazioni. Quindi questo è un safe space per pazzi rabbiosi, lo prometto. Il problema però è la rabbia selettiva, che è quel vociare continuo nelle tv e nei telefoni che ti incrusta le orecchie peggio del cerume. E sposta la rabbia dove vuole lui il sistema. Come quando martellano a reti unificate per convincerti che devi incazzarti con i giovani che non hanno voglia di lavorare. E invece non con chi dovrebbe tagliare un costo del lavoro che costringe a offrire stipendi da fame e turni da bambino che cuce i palloni o le sneakers. O come quando ti dicono che chat GPT e l'intelligenza artificiale minocciano il nostro futuro. Come se potessero fermare una cosa così più grande di loro. Quello che potrebbero fare però, come tassare i colossi del digitale, non lo fanno. Perché di lavoro fanno le gruppi della finanza, non i politici. Intanto, mentre noi ci sgogliamo sulla farina di insetti e sui rave, se fai l'imprenditore perché nessuno ti assume e hai dovuto aprire la partita IVA, invece di fare collezione di bar che come ti raccontano, fai collezione di debiti. Ci mettono uno contro l'altro su delle cazzate atomiche e non ce ne accorgiamo neanche. Invece la rabbia dovrebbe crescere in verticale e non in orizzontale, come direbbe lo stronzo di una start-up. Grazie a tutti.